Ciao a tutti! Cos'è la storia? Ognuno di noi deve ricordare le esperienze passate, altrimenti rischia di fare spesso gli stessi errori. Se io ad esempio non mi ricordo che toccando una pentola bollente mi posso bruciare ripeterò in maniera quasi maniacale questa esperienza. La storia ha il compito di farci ricordare il passato e in questa maniera lo storico spera, scrivendo la storia, di permettere alla società di evitare gli errori del passato. Vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia. Ciao ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti